Quando succedono queste giornate qui sono giornate sempre non belle, perché il Presidente secondo me ha il dovere di prendere in mano la situazione quando degenera un momentino. Sicuramente uno dei miracoli che ho fatto di questo Palermo qui è di portarmi nella fascia sinistra della classifica. Se Napoli ha 50.000 spettatori e il Palermo ha 20.000 spettatori, non può pretendere, salvo qualche miracolo di Santa Rosalia, di avere la stessa possibilità di prendere i giornatori di Napoli. Oggi, purtroppo, io ho riconosciuto il mondo delle rosse che sono malissime per me. Io non vi ho mai abbandonato, non vi ho mai abbandonato, non vi ho mai abbandonato. Non è di stare con me, io prego. Lui sta facendo il suo lavoro molto molto bene, la squadra è assolutamente con lui, ha la stima da parte di tutti. Lo ritengo un allenatore da Palermo e non da Primavera. Secondo me, noi abbiamo fatto bene, considerando tutto, considerando il calendario, considerando i momenti in cui abbiamo incontrato determinati avversari. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti